Caro Giorgio, permettimi, ma non capisco perché dici delle cose che non corrispondono alla realtà. Nei prossimi video puoi produrli dei documenti che attestano che noi abbiamo speso più di quanto lo Stato ha incassato? Noi siamo in avanzo primario da oltre 20 anni. Questa analisi gronda le inesattezze. L'Italia non ha mai speso tra servizi e stipendi pubblici più di quanto incassato dalle tasse. Negli ultimi 30 anni siamo al primo posto nel mondo per avanzo primario, oltre ad essere l'unico paese europeo ad avere sempre rispettato il famigerato vincolo del 3%. Poi ci sono gli interessi sul debito pubblico ed esiste più di una soluzione a questo problema. Ehi, ciao! Hai sentito? Abbiamo lanciato il nuovo portale PianoFinanziero.it Semplicemente il meglio per l'investitore fai da te. Crea ora il tuo profilo gratuito e accedi a oltre 9 ore di formazione, quiz, le nostre aule esclusive e molto altro. PianoFinanziero.it Ti aspetto, ciao! Qualche settimana fa ho fatto un video in cui parlavo della situazione finanziaria italiana, delle possibili evoluzioni del debito pubblico. Lo sappiamo, quest'anno dovremmo arrivare potenzialmente al 155% di debito pubblico se rapportato al PIL. Insomma, facevamo alcune considerazioni sulla sostenibilità del debito pubblico alla luce delle condizioni economiche del 2020 stravolte dal problema del coronavirus. Il mio staff mi ha riportato un paio di commenti che sono quelli che hai potuto vedere nell'intro. Quindi ho deciso di fare questo video in cui fare un po' di chiarezza perché evidentemente non c'è molta comprensione su che cos'è il debito pubblico, che cos'è l'avanzo primario. E quindi eccoci qua a fare un po' di sana educazione finanziaria. Tra l'altro niente che non si possa trovare su Google o su Wikipedia. La prima cosa che viene contestata nel video, e ti metto il link da qualche parte qui e anche in descrizione, per fortuna viene contestata da una minoranza delle persone che ha visto questo video, è che non è vero che l'Italia spende più di quanto in cassa con le tasse. Infatti abbiamo un avanzo del saldo primario o avanzo primario. In realtà si sostiene che se c'è deficit, cioè se alla fine ogni anno spendiamo più di quanto incassiamo, è solamente per colpa degli interessi sul debito pubblico che sappiamo essere enorme. Bene, dobbiamo fare un po' di chiarezza su questo tema perché purtroppo c'è troppa confusione e c'è anche molta pigrizia nell'andare a fare qualche ricerca su Google. Ricerche proprio basiche basiche, ma in questo video le andiamo a fare e quindi prendiamo il nostro computer e digitiamo su Google saldo primario. Il saldo primario nella contabilità nazionale è la differenza tra le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche, escluse le spese per interessi passivi. Quindi in altre parole, che cosa sono le entrate per uno Stato? Sono le tasse. Le tasse che paghiamo sono le entrate per uno Stato. Bene, quali sono le uscite per uno Stato? Una marea di cose. Le infrastrutture, piuttosto che pagare per gli ospedali, per l'università, per il welfare, per la sanità. Queste sono le uscite che si pagano con le entrate, le tasse. La differenza tra entrate ed uscite definisce il saldo primario, cioè un primo saldo, cioè una prima differenza, al netto degli interessi sul debito, senza considerare ancora il fatto che abbiamo un debito pubblico. Se scorriamo nella pagina di Wikipedia, cosa che può fare chiunque comodamente da casa e a costo zero, vediamo un esempio sul conto economico delle amministrazioni pubbliche nel 2015. Sempre fonte Wikipedia, ok? Le entrate, cioè le tasse pagate, 784.041 euro. Uscite complessive per servizi vari, quelli che ho elencato prima, 826.429. Spese per interessi passivi, alla voce C, 68.440, quindi spese per interessi sul debito. Uscite al netto degli interessi, ecco, questo è il saldo primario, ok? Cioè D, la quarta riga, è uguale a B-C, cioè uscite meno entrate. Bene, D-C è uguale a 757.989 milioni di euro. L'avanzo, se è positivo o il disavanzo, se è negativo, primario è A-D, ok? Quindi vuol dire che sì, le uscite sono state minori rispetto alle entrate, di quanto? Di 26.000, ma poi sono arrivati i 68.440 milioni di euro di interessi, che hanno portato un accreditamento o indebitamento pari a 42.388 milioni di euro. Cosa significa? Significa che, sì, le spese sono state inferiori rispetto alle entrate, al netto degli interessi sul debito, poi quando aggiungi gli interessi sul debito, in realtà stai andando a spendere di più, perché è una spesa l'interesse sul debito, di quanto stai incassando, e quindi ti stai andando ad indebitare. Sulla colonna di destra vedi anche le percentuali, quindi il saldo primario è stato positivo dell'1,7%, ma l'indebitamento è stato del 2,7%. Vuol dire che con un conto economico di questo tipo ci siamo andati ad indebitare per un valore pari a 42.388 milioni di euro, ed è un esempio, non mi interessa entrare nel dettaglio dei dati, mi interessa capire la logica di calcolo del saldo primario. Bene, siamo dovuti andare ad indebitarci, perché comunque gli interessi erano superiori al saldo. Attenzione, questa è matematica di base, queste sono addizioni e sottrazioni. Poi i numeri possono essere in euro, migliaia di euro, fantastigliardi di euro, ma sono sottrazioni e addizioni, al massimo una percentuale. Detto questo, i commenti che abbiamo visto precedentemente sono di persone che sostengono che il saldo primario sia la metrica da valutare, o in altre parole, ma chi se ne frega dell'indebitamento finale, il saldo primario è quello che conta, perché entrate meno uscite al netto degli interessi è positivo, cioè stiamo spendendo meno delle entrate. Ma che discorso è? Non ha alcun senso questo ragionamento. C'è una frase molto bella, non è mia, direi la Biedetta Cottarelli, che recita più o meno così. Fermarsi a valutare le finanze di uno stato al saldo primario è come contare le calorie di un pranzo o di una cena fermandosi al secondo. E il dolce? E il dolce non contribuisce alle calorie dell'intero pasto, dell'intera cena o dell'intero pranzo? Certo che sì. Questo vuol dire non avere minimamente idea di come funziona la contabilità o di uno stato o di un'azienda. Ecco, parliamo di aziende, giusto? Prendiamo il conto economico di una società. Come è composto? C'è una gestione caratteristica, ok? C'è una gestione accessoria, finanziaria, straordinaria e fiscale. In due parole, se tu sei un'azienda che produce automobili, la gestione caratteristica è la relazione tra le entrate e le uscite del tuo business di produzione di automobili, ok? La gestione accessoria potrebbe essere qualcosa associato, accessorio al tuo core business. Quindi magari non è nella tua ragione sociale fare operazioni immobiliari, ma stai vendendo uno stabilimento che non usi più. Quindi magari hai anche dei proventi che non dipendono necessariamente dalla produzione di autoveicoli, ma da altre attività che non sono veramente il tuo core business, ma sono accessorie. Poi, non perdiamoci in dati, c'è la gestione finanziaria. Cosa significa? Che per valutare la solidità di un'azienda, c'è sia da capire quanto il management, cioè i gestori, gli amministratori, sono bravi nella gestione caratteristica. Producete automobili? Quanto marginate nel produrre automobili? Bene, punto. Prima domanda. Seconda, c'è anche la gestione finanziaria. Quanto siete bravi a gestire le finanze della società, a utilizzare il patrimonio della società, piuttosto che avere una struttura di debito sostenibile, ok? Anche questa è manifestazione della capacità del management, degli amministratori della società, di gestire in modo più o meno buono la società stessa, ok? La gestione finanziaria è una delle gestioni. Non mi interessa entrare nel dettaglio del conto economico di una società. Quello che è il messaggio che voglio farti capire è che come per una società, nella responsabilità di un governo e di una classe politica, non c'è solo la gestione ordinaria, non c'è solo la gestione delle entrate e delle uscite per quanto riguarda il saldo primario. C'è la gestione completa delle finanze di uno Stato, inclusa la gestione finanziaria, la gestione del debito. A maggior ragione per uno Stato che ha oltre 2.000 miliardi di debito pubblico. Cioè è come dire che esistono imprenditori che possono non preoccuparsi della situazione patrimoniale della società. Cioè possono dire, vabbè no, ma noi produciamo bene e marginiamo. Poi chi se ne frega se abbiamo 200 milioni di debito. Marginiamo nella produzione delle nostre viti, ok? Non lo so, prima cosa che mi invento. Chi se ne frega se gli imprenditori da cui abbiamo comprato la società ci hanno lasciato 200 milioni di debito. Numeri a caso. Non si può ragionare così. Nella responsabilità di una classe politica, e qui non sto facendo una valutazione politica, non mi interessa parlare di destra, di centro, di sinistra, dopo vedremo, o anche in altri video, vedremo che le mancanze ci sono per qualunque fazione politica, la gestione politica non può non considerare la gestione finanziaria. E quindi non ha senso valutare la bontà di una gestione fermandosi al saldo primario. Quello che conta è se c'è stato o no indebitamento. Non ci stai capendo niente? È troppo tecnico? Non ti preoccupare. Guardiamo questo grafico. Questo è molto semplice. Ci fa capire i saldi di finanza pubblica in rapporto al PIL. Come vedi, nelle colonne verdi, sopra la riga dello zero, vedi il saldo primario, cioè la differenza tra le entrate e le uscite dello Stato. Ma visto che abbiamo un debito pubblico enorme, che ogni anno ci costringe a pagare tantissimi soldi di interessi, andando più in basso nel conto economico dello Stato, vediamo che alla fine l'indebitamento netto è comunque stato sempre attorno al 3%, più o meno la media degli ultimi 15 anni. Quindi è incontestabile che considerando gli interessi che si pagano sul debito pubblico, e dopo vedremo che bisogna fare qualche valutazione sul debito pubblico, noi abbiamo speso più di quanto incassato. Ed è incontestabile che non si può trascurare questa componente di costo. Attenzione, lungi da me dire che non ci si debba indebitare in questo momento. Il debito non è qualcosa di sbagliato a prescindere, ok? È qualcosa che deve essere contestualizzato. Nel senso che se il debito viene contratto, ma è in grado di generare una crescita economica superiore al costo del debito, ha assolutamente senso indebitarsi. Il problema è se ci indebitiamo e non siamo in grado di generare crescita economica. Ehi, ma questo è il caso dell'Italia negli ultimi 20 anni. Vediamo questo grafico. Questo è il tasso di crescita del prodotto interno lordo, dell'economia, in parole semplici, Gross Domestic Product, GDP, e vedi come dal 2010 ad oggi, togliamo il 2020 che è una tragedia, lo sappiamo, tra momenti migliori e momenti peggiori, la media più o meno è stata attorno allo 0,4. Fidati, ok? Sull'ultimo decennio circa la media di crescita è stata lo 0,4% di crescita annualizzata. Il problema è che il debito pubblico costava più dello 0,4% di tasso di interesse annuo. Qualche prova? Eccola qua. Costi medi delle emissioni di titoli di Stato nell'ultimo periodo, ok? Fai qualche stima, fai qualche media, vedrai come nell'ultimo periodo il costo del debito è stato superiore allo 0,4% che più o meno è stata la crescita annua dell'ultimo decennio. Numeri alla mano, è palese che questi risultati sono la conseguenza di decisioni politiche. Tra queste decisioni politiche, nella gestione finanziaria di uno Stato, c'è anche a chi indirizzare il debito pubblico. Infatti uno Stato può decidere a chi indirizzare i propri titoli di Stato. E queste sono decisioni politiche. Potremmo parlarne per ore sulle scelte che sono state fatte negli ultimi anni, ok, di apertura a investitori esteri. Infatti questa è la composizione ad oggi del debito pubblico. Vediamo che abbiamo privati stranieri, privati nazionali, banche nazionali, enti esteri, il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, banche straniere, banca centrale nazionale. Ed è indiscutibile che nell'ultimo periodo la quota di debito pubblico in mano a risparmiatori italiani si sia ridotta drasticamente. E ad oggi direi sia attorno al 7-8% del totale. Quindi anche la tesi che lo spread è un costrutto della speculazione finanziaria contro l'Italia è una falsità. O meglio, punta a deresponsabilizzare una gestione politica che ha deciso di vendere il debito pubblico non tanto agli investitori e risparmiatori italiani, ma puntare a piazzarlo all'estero. È una scelta politica anche questa. Perché le decisioni su come gestire il debito pubblico sono responsabilità del Ministero del Tesoro. Quindi l'analisi fatta nell'altro video è esatta. C'è poco da fare. Considera tutti gli elementi da valutare, cioè l'indebitamento complessivo, la sostenibilità del debito pubblico e molti altri elementi che non si fermano al saldo primario, che come abbiamo visto è una metrica, ma non è la metrica con cui veniamo valutati dalla Commissione Europea, dagli investitori esteri, eccetera. Tra i commenti più divertenti all'altro video, non li ha voluti pubblicare per non dare neanche troppa visibilità a persone che hanno idee un po' folli, c'era che il debito pubblico potremmo semplicemente cancellarlo, dimenticandosi il fatto che il debito di una persona, di una società, di uno Stato, è un asset, è un bene per un'altra persona che l'ha comprato. Quindi il debito pubblico è un investimento per chi ha investito in quel titolo di Stato. Quindi annullare il debito pubblico vuol dire cancellare del patrimonio nelle tasche di una persona, di un investitore o di chi ha acquistato quel debito pubblico. Qui torna il discorso che allora potremmo dire incentiviamo i cittadini e i risparmiatori italiani a comprare debito pubblico. E le ultime missioni di BTP sono andate in quella direzione. Non sto qui a dilungarmi sul perché siamo arrivati ad una percentuale di investitori italiani, di piccoli risparmiatori italiani, così bassa sul totale del debito. Ok? Non lo so, sono decisioni politiche degli ultimi vent'anni. Ma questo è un dato di fatto e la politica non può non considerare questo aspetto. Ha deciso di aprirsi al mondo degli investitori internazionali. Non possiamo dire che lo spread non esiste o che sono solo gli speculatori che giocano contro l'Italia. Sono decisioni politiche degli ultimi vent'anni. Non sono stato abbastanza chiaro che sono decisioni politiche degli ultimi vent'anni e oltre? Chiarito che un debito, una passività è un bene o un'attività per chi ha comprato quell'investimento lì e quindi non possiamo semplicemente cancellarlo. Vuol dire che delle famiglie o degli investitori si trovano valorizzati zero i loro investimenti. Quindi c'è un impatto. Ok? Da questa decisione che alcuni prendono così alla leggera. Anche il commento ma sì, basterebbe avere la sovranità monetaria è una frase che non ha alcun senso. Perché? Perché è fatta da persone che non sono andate su Google a vedere cosa hanno fatto gli altri stati che hanno la nostra stessa valuta. Ma eccoci qua! Guardiamo qualche dato, dai! Allora, performance in termini di crescita del prodotto interno lordo di alcune economie dell'eurozona cioè paesi che adottano l'euro. Bene, vediamo come la Germania in verde si è passata da 100 circa prendendo questa metrica partendo da 100 nel 2008 a 113 quindi ha generato una crescita di circa il 13% in una decina d'anni. Poi vediamo la Francia in rosso a 118 questi sono dati al 2019 ok, prima della pandemia. la Spagna 105, l'Italia 95 la media dell'eurozona 108.36 quindi tutti hanno la stessa valuta però i risultati sono sostanzialmente differenti ok? È un problema di valuta? Numeri alla mano no perché ci sono paesi che hanno la stessa valuta e che riescono ad avere delle performance migliori in termini di crescita economica e gestione del loro debito pubblico e non è che la Spagna sia messa poi così meglio rispetto a noi ok? Quindi purtroppo dobbiamo accettare il fatto che la responsabilità di questa gestione e di questa situazione molto complessa per quanto riguarda il debito pubblico è tutta nostra punto cioè non pensiamo che cambiando le regole del gioco cioè facendo un default ma chi se ne frega del debito pubblico cancelliamolo è solo un costrutto il debito pubblico oppure dicendo ma cambiamo moneta non è che se cambiamo le regole del gioco allora siamo più bravi a giocare i dati confermano che la gestione politica dell'economia gestione fatta da centro-destra centro-sinistra centro-qualunque partito non è una valutazione politica è una valutazione puramente finanziaria bene questa gestione negli ultimi 10-15 anni è stata pessima siamo uno dei pochi paesi che non è riuscito a recuperare il prodotto interno lordo l'economia pre-crisi del 2008 questi sono dati alla mano è incontestabile all'interno della stessa eurozona fa piacere sentirsi dire queste cose? no e capisco che molte persone preferiscano nascondersi dietro la falsa promessa che cambiando valuta o cambiando le regole del gioco potremmo essere più bravi a giocare al gioco dell'economia e della gestione del debito ma non è così quindi mi dispiace perché ho fatto commenti che potevano essere evitati facendo qualche ricerca online perché sono tutti dati pubblici ma la situazione è questa ok? è grave è complessa ne parleremo anche in altri video ma sicuramente per essere investitori responsabili e cittadini responsabili con anche un discreto senso civico bisogna essere in grado di masticare senza entrare troppo nel dettaglio ma almeno avere una corretta infarinata questi dati sulla solidità delle finanze pubbliche perché il debito pubblico purtroppo è di tutti noi ok potremmo dire che il debito pubblico è dello stato sì è vero è dello stato ma se questo è insostenibile le conseguenze della sua insostenibilità possono comunque gravare su di noi come con una patrimoniale è molto semplice tra l'altro che c'è già parliamo di IMU parliamo di imposte di bollo sui depositi titoli voglio chiudere questo video con una frase molto importante che non è mia ma che ti leggerò che dice la finanza pubblica deve essere sana il bilancio deve essere in pareggio il debito pubblico deve essere ridotto l'arroganza dell'amministrazione deve essere combattuta e controllata e l'aiuto ai paesi stranieri deve essere diminuito per evitare il fallimento di Roma la popolazione deve ancora imparare a lavorare invece di vivere di pubblici sussidi chi era? l'avrà intuito si parla di Roma Marco Tullio Cicerone 55 avanti Cristo con questo è tutto condividi questo video perché questi dati queste informazioni devono avere la massima diffusione possibile se ti è piaciuto il video clicca mi piace ci vediamo in un altro video sei ancora qui? non hai ancora creato il tuo profilo su pianofinanziario.it? fallo subito mi raccomando ci vediamo dentro la piattaforma ciao pianofinanziario.it dai dai